Ciao sono Laura. Prendete un filo abbastanza lungo e lo piegate a metà. Da una parte avete il cappio, dall'altra invece avete due capi di filo. Infilate l'ago dalla parte dei due capi di filo e ottenete questo risultato. Eccolo qua, lo vediamo nell'immagine. A inizio ricamo per ancorare il filo procedo in questo modo. Infilo l'ago, tiro e poi faccio passare il filo attraverso il cappio. Così e tiro. Poi proseguo con il mio ricamo. Per chi ancora non ci conoscesse venite a trovarci sul nostro canale. Ciao, alla prossima! Ciao! Ciao! Ciao!